Oggi, peraltro nel centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma come capitale d'Italia, esistono ragioni che rendono ancora più stringente e non rinviabile la necessità di riprendere questo percorso. Individuo due questioni. Da un lato l'approvazione del piano nazionale che l'Europa ha messo a disposizione, le cui misure possono e devono essere declinate in sede attuativa in modo da intercettare le esigenze e le istanze della capitale e dall'altro un appuntamento molto atteso come quello del giubileo del 2025. Di tali questioni ed esigenze il Governo è pienamente consapevole e l'intervento normativo che abbiamo in animo non può che essere multidimensionale, e quindi riguardare da un lato l'architettura istituzionale, i poteri e le risorse e dovrà certamente questo intervento allineare Roma ad altre capitali, tutte invariabilmente munite di statuti e poteri peculiari. In questa prospettiva abbiamo istituito nel corso delle settimane presso il Ministero una Commissione che ha proprio questo compito ed è presieduta dal Professor Marini con il compito di analizzare gli scenari di riforma dell'ordinamento di Roma Capitale a partire dal lavoro svolto dalle Camere sulle proposte di iniziative parlamentare. Perché su questo tema io auspico e confido che ci possa essere una convergenza importante tra il lavoro che il Parlamento, in particolare la Commissione Affari Costituzionali della Camera, su questo ho avuto un'interlocuzione anche con il Presidente Brescia e c'è un lavoro abbastanza avanzato e quindi il senso di questa Commissione, lo voglio precisare, non è certamente quello di sostituire o scavalcare l'attività parlamentare, ma anzi aspira ad affiancarla e a supportarla, con l'intento di facilitare la necessaria sintesi fra le diverse posizioni per addivenire in tempi rapidi alla soluzione tecnicamente più adeguata da andare incontro alle esigenze di Roma e alla questione che viene posta. La Commissione sta lavorando alacremente, facendo sintesi di iniziative molteplici, di riforma costituzionale ma anche di riforma ordinaria, che sono presenti in Parlamento e della preziosa istruttoria già svolta attraverso molteplici audizioni dalla prima Commissione della Camera. Vi è una sostanziale condivisione dei punti centrali di un intervento riformatore che non può ringuardare, anche in attuazione dell'articolo 114 della Costituzione, i poteri e gli ambiti materiali delle funzioni di Roma Capitale, i meccanismi e le sedi di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, il ruolo dei municipi, le forme e modalità di attribuzione delle risorse. La Commissione si è data un termine e quindi entro fine mese mi auguro di essere in grado di poter illustrare quello che saranno le conclusioni e quindi la proposta di riforma della governance della Capitale. Il clima di concordia e la determinazione della prima Commissione Camera legittima un ragionevole ottimismo sul prosieguo. Il Governo, nel rispetto delle prerogative delle Camere, monitorerà gli sviluppi dei lavori, auspicando una definizione la più celere possibile e riservandosi ovviamente di valutare ogni ulteriore iniziativa che possa accelerare l'iter della riforma e ampliarne gli orizzonti.